Buongiorno a tutti, sono Andrea Guderzo, amministratore e titolare di Gasparini Industries. Oggi iniziamo un po' in sordina, io oggi non sono venuto qui a parlare di prodotto, ma sono venuto a raccontare la storia di un'azienda che ha avuto un passato burrascoso e è riuscita a tornare nel mercato, più forte, più determinata e con degli obiettivi ben precisi. Non parlo di prodotto perché molto spesso noi approcciamo sempre il prodotto per cercare di risolvere i problemi, per cercare di cambiare le cose. Qui oggi vi voglio raccontare come un'azienda, una squadra, ha deciso di lavorare in modo diverso per risollevare le proprie sorti. Allora, io entro in Gasparini e questa è la situazione. Io entro a fine 2013 e questa è una notizia uscita su un giornale locale, nel 2014 l'azienda è in difficoltà. A 4 anni dall'acquisizione, dopo il fallimento, l'azienda di nuovo si trova in un forte stato di difficoltà. Io sono appena entrato, neolaureato, figlio del titolare e con zero esperienze in meccanica. Quindi estremamente non referenziato. La situazione è difficile, la gente è demoralizzata, si lavora poco, ordini in portafoglio pochissimi, c'è demotivazione e si inizia a non crederci più. Io mi sono trovato in questa situazione in cui ho dovuto prendere in mano l'azienda e capire cosa fare e di capacità ne avevo molte poche. Allora, io vi voglio spiegare come in questo contesto noi tutti quanti in azienda abbiamo deciso di non lavorare sul prodotto per cambiare le cose, ma abbiamo deciso di lavorare su di noi e sul mercato per ritornare in pista. Abbiamo siglato un motto che Fatalità è anche molto simile a quello della Ferra Ramiera che è shaping your ideas, dare forma alle idee e qui non ci siamo rivolti, questo è il motto che non ha guidato solo l'azienda nel rapporto con il mercato, ma ha guidato anche quello che era lo spirito interno dell'azienda perché per ripartire, per tornare a crescere ed avere successo, dal mio punto di vista era importante valorizzare tutto quello che c'era all'interno dell'azienda come know-how, come conoscenza e come esperienza. Questi sono stati i cinque punti principali che ci hanno portato a ritornare sul mercato che adesso li vedremo uno a uno e il primo è proprio no al prodotto centrismo che è una patologia che dal mio punto di vista fligge tutte le aziende che fanno prodotto. Si cerca sempre di risolvere il problema lavorando sul prodotto, il prodotto deve avere questa cosa piuttosto che un'altra, ma i concorrenti hanno questo e noi non lo abbiamo, ma noi abbiamo questo e il mercato non lo vuole, questo deve costare così, questo deve costare colà, no. La risposta è no perché il cliente non compra un prodotto, ma compra una soluzione, compra quello che in inglese chiamano il jobs to be done. E quindi bisogna lavorare su qualcosa che serva al cliente e bisogna anche decidere qual è il tipo di cliente che vogliamo servire. Quindi no focalizzarsi sul prodotto. Noi fortunatamente arrivavamo da una tradizione nella presso piegatura da lunghissimi anni, quindi c'era tantissima esperienza, il prodotto c'era già, andava probabilmente ripensato e riconfigurato. Altro aspetto su cui abbiamo lavorato, subito dopo aver deciso di escludere di lavorare prettamente sul prodotto, la prima cosa che abbiamo fatto è stata l'organizzazione interna. Per capire come ripartire invece che andare a cercare risorse dall'esterno, abbiamo valutato attentamente le risorse che avevamo già dentro, che hanno esperienza, motivazione, legame, che è molto importante. E questa analisi è stata fatta su tre aspetti, che sono le tre P facili da ricordare. Posizione, prestazione e potenziale. Una persona può avere un ottimo potenziale, ma essere nella posizione sbagliata e quindi avere una bassa prestazione. E quindi abbiamo lavorato sulle nostre persone per cercare, il nostro obiettivo era, come ho scritto, valorizzare il potenziale delle persone per permettere a loro stesse di accrescere il loro potenziale. Un esempio, potete vederlo qui in fiera, se ci venite a trovare in stand, il nostro product manager Mauro. Lui è product manager ma è stato per vent'anni responsabile della parte elettrica di prodotto, quindi tutt'altro. Completamente un'altra cosa. Lui è sempre stato focalizzato su quello, Mauro aveva delle ottime doti relazionali col cliente, capacità di comprendere e soprattutto di comunicare internamente e è stato spostato completamente. Se parlate con Mauro, lui mi dice, io hai vent'anni che lavoro in Gasparini, mi sembra di aver cambiato azienda, da quando ho cambiato posizione. E questo l'abbiamo fatto con un sacco di persone internamente e siamo riusciti a riorganizzare internamente e mettere le persone giusto al posto giusto per loro, non per noi. Poi abbiamo rivisto l'offerta, dovevamo razionalizzare l'offerta. Noi siamo praticamente monoprodotto, noi facciamo presse piegatrici e cesoie ma la piegatura fa il 90% del nostro business e è per quello che siamo fortemente riconosciuti. E noi, sempre seguendo il motto di dare forma alle idee, abbiamo riconfigurato la nostra offerta di prodotto mantenendo quello che c'era, cambiando qualcosina, però abbiamo pensato il nostro prodotto per un determinato tipo di cliente. Qui vedete raffigurata la nostra piegatrice entry level che si chiama Express Easy, che non è una macchina da prezzo per entrare da un cliente o per coprire una certa fascia di mercato, è una macchina, noi non facciamo prodotti da prezzo, noi lavoriamo sull'alto di gamma e siamo posizionati lì. Le trattative che si svolgono su macchine poco accessoriate che per il cliente in questione richiedono un livello di tecnologia semplice, noi lì non siamo competitivi, non riusciamo a stare. Questa macchina qui è pensata semplicemente per i nostri clienti, quelli che sono già nostri clienti, che hanno bisogno di una macchina piegatrice a completamento di quello che è già il loro parco macchine. Noi è qui che vendiamo, questa macchina è stata pensata per questo e fa questo compito. Poi invece c'è il nostro top di gamma, l'Express Next, che è la piegatrice accessoriabile con tutta quella che è la nostra offerta. Qui in particolare la vedete con la configurazione di cambio utensile automatico, noi presentiamo qui a Lamiera il cambio utensile automatico sulle grandi taglie, sui grandi tonnellaggi. Anche questa è stata una cosa che è stata pensata in rapporto col mercato e in rapporto con quelle che erano le nostre capacità interne di poter offrire qualcosa di differente dal mercato. Abbiamo deciso di focalizzarsi sugli alti tonnellaggi perché comunque era un'area di mercato scoperta, quindi strategicamente conveniente e perché abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti su quello che è il ritorno dell'investimento. Queste macchine sono fatte per generare valore e quindi devono poterne generare tanto e quindi ripagarsi in fretta. E questo è l'obiettivo di questo prodotto. Poi abbiamo la Super Custom. La Super Custom è una gamma di macchine dove non c'è nulla di standard, dove noi praticamente la macchina cresce attorno alla produzione del cliente. Quindi quando noi andiamo a costruire macchine del genere, l'analisi non si fa sul prodotto, ma si fa sul processo e sul prodotto del cliente. E non ha nulla di standard. E poi abbiamo le nostre cesoie. Noi abbiamo un tipo di cesoie particolare perché è estremamente costosa. Noi abbiamo deciso di uscire da quella che è l'offerta standard di cesoie del mercato perché, come vi dicevo prima, sullo standard non siamo competitivi. Abbiamo un prodotto che si posiziona su una nicchia ben precisa di mercato che è dedicata a quelle aziende che richiedono la massima precisione di taglio e noi lavoriamo lì, esclusivamente lì. Questa idea è nata internamente, confrontandoci tutti quanti, quando ci siamo messi a ragionare sulla cesoia. La cesoia è un business piccolo, porta poco valore, cosa facciamo? L'idea è stata questa. C'è una nicchia di mercato che non è coperta, che sono questi clienti, principalmente le acciaierie. Il nostro primo cliente è ArcelorMittal, che è il più grande produttore del mondo di acciaio. E vedete, abbiamo dato forma alle idee, sia del mercato che dell'azienda e abbiamo creato un altro prodotto dedicato. Bene, dopo aver fatto tutto questo lavoro sul prodotto, prodotto che ha tanto valore, che deve essere espresso in qualche modo, perché il valore non dobbiamo dircelo solo noi. Il valore c'è nel momento in cui ci viene riconosciuto. E come facciamo a trasmettere questo valore in fase di vendita? La fase di vendita è articolata, non siamo noi necessariamente che andiamo a vendere da clienti. Ci sono degli intermediari, un distributore che ha i suoi agenti, che magari è un segnalatore, che poi all'interno dell'azienda parla con soggetti diversi, non sempre con le stesse persone, e quindi scatta il gioco del telefono senza fili. Noi pensiamo di partire con un'informazione o con un determinato tipo di atteggiamento verso il cliente e non è detto che questo possa essere replicato. E quindi abbiamo detto come facciamo? Siamo fatti la prima domanda, che è noi non dobbiamo andare a cercare i clienti, dobbiamo farci trovare dai clienti, perché noi abbiamo un'offerta targettizzata e di conseguenza dobbiamo andare in cerca di quei clienti che possono valorizzare tutto quello che è stato creato e pensato. Allora abbiamo iniziato a lavorare sul web, tantissimo. Noi nel 2015 abbiamo iniziato a investire molto in comunicazione web e questi sono i risultati di oggi. A sinistra vedete una piccola leaderboard, che praticamente questo sistema analizza quella che è l'efficienza dei propri canali di comunicazione in termini di contenuto, in termini di interazione da parte del pubblico e siamo in pole position. Altra cosa che abbiamo fatto è stata quella appunto volendo andare a lavorare in modo targettizzato sui clienti, prima si faceva la classica pesca con la dinamite, offri a tutti perché per la legge dei grandi numeri a tanti offro e un po' porterò a casa. Invece no, abbiamo deciso di offrire, anche solo offrire le nostre macchine in modo mirato. Il risultato lo vedete sulla destra, la redemption sulle offerte, quindi il totale di macchine venduto sul totale di offerte fatte è andata increscendo. Quindi abbiamo iniziato a lavorare di meno internamente e a vendere di più perché ci siamo concentrati su un obiettivo che abbiamo tutti insieme stabilito. Questo ti permette logicamente di non preoccuparti continuamente di fare il lavoro quotidiano ma di poterti concentrare su tutte quelle che sono le fasi interne per fare un lavoro migliore verso il cliente o chiunque si interfacci con te. Ricordatevi che il cliente non è solo esterno ma è anche interno. Se io genero una mole enorme di offerte ogni giorno, non è solo un lavoro di back office, il cliente mi chiede la macchina con XY accessorio, la offro e basta. Magari dietro c'è uno studio che impegna l'ufficio tecnico, che mi impegna la parte logistica e quindi tutti sono focalizzati ogni giorno a mandare avanti questa mole di lavoro che fondamentalmente non ha un obiettivo. Noi dandoci degli obiettivi siamo riusciti a razionalizzare il processo con dei risultati apprezzabili. L'ultimo punto, internazionalizzazione, cruccio di tutte le piccole e medie imprese italiane. Come faccio a portare il mio valore in giro per il mondo? Nonostante Gasparini avesse un'ottima tradizione in termini di mercati internazionali, questa poi si è andata perdendo nel momento in cui abbiamo deciso di razionalizzare la nostra offerta. Allora torniamo al punto di prima, di tutti gli intermediari che ci sono nel momento in cui vai a effettuare una vendita, risulta difficile trasmettere valore perché abbiamo un prodotto fatto su misura che vuole esprimere un alto valore e poi comunque quando vai all'estero c'è anche la concorrenza locale perché il Gasparini in Italia c'è in Germania, in Spagna, negli Stati Uniti, in Cina e ognuno ha la propria concezione di valore. E quindi come possiamo trasmettere il nostro valore? Come facciamo ad andare all'estero in modo strutturato? Perché questo è il punto, andare strutturati. Bene, noi qui a Lamiera annunciamo quello che è un accordo che abbiamo fatto alla fine dello scorso anno, un accordo con uno dei più grandi player del mercato che è Prima Power. Prima Power è un'azienda italiana, storica, una delle più grandi in assoluto nel panorama delle macchine per lavorazione di Lamiera e abbiamo fatto un accordo, come si dice, win-win. Loro avevano bisogno di completare la gamma della loro offerta con la piegatura, piegatura idraulica, loro hanno già quella elettrica e noi avevamo bisogno di andare all'estero. Avevamo due obiettivi comuni. Ancora una volta torna il discorso dell'obiettivo, torna il discorso di un'idea a cui abbiamo dato forma collaborando con altri e questo per noi è un grande successo, è un grande risultato perché avremo la possibilità di andare in giro per il mondo a portare il nostro nome, a portare la tecnologia con un partner italiano che ci dà ancora più soddisfazione. Il messaggio che voglio lasciare oggi è, che è il nostro moto che abbiamo portato avanti dello shaping your ideas, è che è importantissimo e fondamentale prima di tutto collaborare dal punto di vista delle idee, però ci vogliono dei presupposti valoriali alla base di tutto questo. Questi che vedete qui che sono passione, fiducia e coraggio, che è il titolo della presentazione, sono i valori di Gasparini, che hanno un significato ben preciso perché è facile dire no, passione, figura e coraggio. Sono come quelli che quando fanno le ricerche di personale le aziende scrivono assumiamo talenti, coltiviamo talenti, e gli altri cosa facciamo? Bisogna dire bene, bisogna dare un nome alle cose e per noi passione, fiducia, coraggio significa passione e ricercare l'efficienza e l'efficacia in quello che facciamo. Abbiamo l'ambizione ogni giorno di cercare di migliorare un pochettino qualcosa che facciamo quotidianamente. La fiducia, se vogliamo mettere in atto obiettivi ambiziosi e raggiungerli, c'è bisogno di sviluppare relazioni continue, internamente ed esternamente e quindi crescere sviluppando fiducia. E poi il coraggio, che il coraggio al giorno d'oggi significa abbracciare il cambiamento. Qui vedo un po' di ragazzi giovani, voi vivrete un'epoca dove le cose cambieranno alla velocità della luce. È importante mettersi in discussione continuamente, è importante capire che non c'è uno standard. Oggi le aziende vivono di vantaggio competitivo transitorio, vuol dire un vantaggio competitivo che riesco a coprire per poco tempo e quindi è importante essere predisposti mentalmente al cambiamento e mettere continuamente in discussione le cose. Non sentirsi mai arrivati. Queste sono un po' della nostra squadra di oggi, abbiamo fatto una foto davanti a uno dei progetti più importanti che abbiamo realizzato negli ultimi anni, realizzato con un cliente uno studio durato due anni e un anno e mezzo per realizzarlo. Questo shaping your ideas è il motto che ci ha guidato per tutti questi anni e che ci ha insegnato che lavorando assieme si vince assieme. Grazie.